La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Che Conte fosse andato in Europa per sbattere i pugni sul tavolo era già di per sé qualcosa di davvero poco credibile. Come è poco credibile il ruolo del poliziotto buono che hanno assegnato a Mario Draghi, mentre il presidente del MES deve continuare a rimarcare il ruolo del poliziotto cattivo. Ma alla fine appartengono tutti alla stessa combriccola. Nessuno ha sbattuto i pugni sul tavolo semplicemente perché le proposte utili per gli italiani su quel tavolo non le hanno fatte mai arrivare. L'unica vittoria che decanta Conte è quella di aver fatto rimandare di due settimane le decisioni contro di noi. Non certo il merito di aver fatto prendere decisioni a nostro favore. Gli olandesi non vogliono bond comuni, non vogliono nessuna condivisione dei rischi. Stessa cosa vale per i tedeschi. Il primo ministro portoghese ha definito ripugnanti le parole del primo ministro olandese. Questa oggi è l'Unione Europea. Eppure è proprio l'Olanda che mentre predica austerità e disciplina di bilancio cerca di attirare a sé le sedi fiscali di multinazionali di mezzo mondo comportandosi come un paradiso fiscale e sottraendo la cifra di 50 miliardi di base fiscale ad altri paesi. Si salvi chi può è il grido che contraddistingue in questo momento i paesi europei durante l'emergenza coronavirus. Una cosa è certa, l'Unione Europea è una casa che brucia. Qualcuno proverà fino all'ultimo a salvare l'argenteria, ma alla fine li vedrete tutti saltare fuori e correre al riparo. Noi dovremmo farlo prima che sia troppo tardi. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.